Nel 1953 a Santa Giusta in Sardegna un ragazzo danese di 17 anni Andreas Fridolin Weiss Benson sentiva suonare per la prima volta le Launidas. Fu l'evento che segnò la sua vicenda umana e culturale sino alla morte giunta a soli 35 anni dedicò tutte le energie intellettuali allo studio di quest'isola. Per diversi anni con lunghi soggiorni nel meridione della Sardegna raccolse una notevole quantità di dati sulle tecniche costruttive, i repertori musicali e le funzioni sociali delle Launidas. I risultati vennero pubblicati nel 69 in uno studio di alto valore scientifico tuttora insuperato. Preziosa eredità di quella ricerca sono le registrazioni sonore, i tacchini d'appunti, le fotografie e infine le riprese cinematografiche. Le sue ricerche etnomusicali si inquadravano in una prospettiva antropologica e da antropologo si accostò in seguito agli aspetti più arcaici delle zone interne dell'isola e dedicò gli ultimi anni di vita allo studio della comunità pastorale di Nule, una ricerca rimasta purtroppo incompiuta. Questo film, costruito con i materiali visivi e sonori raccolti da Andreas Benson durante la sua ricerca sulle Launidas, vuole essere un omaggio affettuoso e riconoscente a un illustre studioso e a un grande amico della Sardegna. Grazie a tutti! 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 a tutti! a tutti! Grazie a tutti! a tutti! Grazie a tutti! 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 a tutti!